...di Asgard, l'equilibrio dell'universo, era sconvolto. Poi giunse un giorno, come nessun altro, in cui Hela, dea della morte, giunse a ciò che era rimasto di nove reami e li modellò a sua immagine. Dove c'era speranza, ora c'è paura. Dove c'era nascita, ora c'è sangue. E dove un tempo era tuo padre, siedo ora in. Grazie Barbara!